Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Fin dove ci si può spingere pur di evitare che i propri inganni vengano svelati? Vi anticipo che il caso di Mark Hacking ci presenta una lezione amara sui segreti celati e sulla vera identità delle persone che potremmo pensare di conoscere bene. Tuttavia questa vicenda dimostra che persino la verità più oscura si può nascondere, sì, ma non seppellire per sempre. Mark Hacking nasce il 24 aprile 1976, cresce a Orem, nella contea dello Utah, a 65 km da Salt Lake City. Vive con i genitori Douglas e Janet e con ben sei fratelli, di cui tre maschi, Lance, Chad e Scott, e tre sorelle Tiffany, Sarah e Julie. Mark fa parte di una famiglia mormone, è un membro della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Come avrete intuito, la religione ha un ruolo centrale nella vita della famiglia, che frequenta regolarmente la chiesa ed è molto rispettata da tutta la comunità. Douglas, il padre di Mark, è un pediatra, mentre sua madre è un'infermiera. La famiglia Hacking non è ricca, ma ha una buona capacità di spesa e vive in una bella casa. I fratelli e le sorelle di Mark ottengono ottimi risultati a scuola, soprattutto nelle materie scientifiche, ed eccellono negli sport. Gli Hacking rispecchiano a pieno l'immagine della famiglia perfetta e l'apparenza, per i genitori, è molto importante. Fin da piccolo Mark avverte una certa pressione, anche lui vuole avere successo nella vita, desidera diventare un uomo d'affari. Da bambina è molto attiva, adora lo sport e va spesso in escursione in montagna, ne lo iuta, ma ciò che Mark ama più di ogni altra cosa è far ridere le persone attorno a lui, per attirare l'attenzione. Mark brama con tutto se stesso che gli altri si interessino a lui e anche in classe è solito farsi notare, tanto che viene definito il clown. Insomma, Mark si comporta da idiota solo per essere considerato dal resto dei suoi compagni, ma loro, più che ridere con lui, ridono di lui. Ad esempio, mentre gioca a football, Mark indossa scarpe di una misura più grande, così poi gli si sfilano e lui scivola tra le risate degli spettatori. Altre volte si spalma del fango in faccia, ma dice ai suoi compagni che è caduto, perché è maldestro. Insomma, Mark ne racconta di bugie, ma per ora inventa storie innocenti, tuttavia, man mano che cresce, queste bugie diventano sempre più croniche, grandi e ingestibili. Quando Mark frequenta il penultimo anno delle scuole superiori, si avvicina a una ragazza di nome Lori Suarez. Lori nasce il 31 dicembre del 1976, viene adottata a soli quattro mesi dai coniugi Thelma e Araldo e anche lei cresce in una famiglia mormone. Ha un fratello maggiore di nome Paul, anche lui è adottato nello stesso periodo dalla coppia. Lori viene descritta come una ragazzina estroversa, sicura di sé, intelligente. Vive in California per i primi dieci anni della sua vita, poi i genitori divorzano, così Lori e sua madre decidono di trasferirsi a Orem nello Utah, per essere più vicine ai fedeli della comunità mormone. Suo padre e suo fratello Paul, invece, rimangono in California. Lori è molto triste all'idea di non essere più vicina a suo padre e a suo fratello, ma a Orem si ambienta immediatamente. Lei e sua madre legano ancora di più, come due migliori amiche. Sono inseparabili. Quando Lori inizia a frequentare il liceo, si dimostra subito una studentessa brillante e più intelligente rispetto alla media dei suoi coetanei. Diventa la rappresentante della classe, pratica tanti sport, è molto popolare, ma è anche una ragazza gentile e premurosa. Lori ha 15 anni quando incontra Mark. Entrambi, con il loro gruppo di amici, vanno a campeggiare nella stessa zona. Lori e Mark non hanno mai parlato prima e lui, come al solito, si comporta da sciocco, finge di farsi male per ottenere attenzioni. Durante una notte, con molte persone accampate in zona e riunite attorno a un falò, Mark decide di mettere la mano nel fuoco per girare uno dei tronchi che sostengono la fiamma. Perché non ha usato un ramo per spostare il ceppo? Beh, sempre per lo stesso motivo. Pur di catturare l'attenzione, Mark è disposto anche a farsi male sul serio e in questo caso si brucia gravemente la mano. Lori assiste alla scena ed, essendo una ragazza gentile e premurosa, corre da Mark per dargli aiuto. Lui accetta ben volentieri che lei gli medichi la mano. Da questo momento i due iniziano a parlare e si innamorano presto l'uno dell'altro. Tutto il liceo conosce l'inseparabile e popolare coppia, Mark e Lori. Sono dei vincenti, sia nello studio che negli sport. Anche la mamma di Lori adora Mark perché lo considera un bravo ragazzo. Inizialmente, quindi, le cose tra i due vanno alla grande, come in tutte le storie appena nate. Dopo il diploma, all'età di 19 anni, Mark svolge la sua prima missione per la chiesa mormone. Un rito di passaggio che, secondo questa religione, responsabilizza i giovani di età compresa tra i 19 e i 26 anni. Se la candidatura per la missione viene accolta, i messaggeri devono trascorrere due anni sul posto assegnato per cercare di convertire quante più persone possibili alla fede mormone. Questo impegno prevede lunghe giornate di lavoro e i missionari adottano tecniche diverse nel tentativo di divulgare il mormonismo. A volte si recano di porta in porta, altre volte stazionano nelle piazze chiedendo ascolto ai passanti. Durante la missione, ogni passo compiuto da giovani predicatori viene esaminato. A tutti i missionari è proibito il contatto con i familiari. Possono telefonare a casa soltanto il giorno di Natale e quello della festa della mamma. Viene insegnato loro a sorridere, ad ascoltare, a trovare punti in comune con i passanti. Devono fare tutto ciò che possono per incentivare l'adesione alla loro religione. Ma ci sono anche tantissime regole che i missionari devono rispettare. È evitato loro di bere, fumare, assumere caffeina e anche guardare la televisione e ascoltare la musica. Possono leggere solo libri di carattere religioso e devono evitare di relazionarsi con persone del sesso opposto. Mark per svolgere la sua missione viene inviato a Winnipeg in Canada e si dimostra bravissimo. È un promotore nato e riesce a convertire numerose persone alla fede mormone. Tuttavia Mark fa fatica a seguire le regole imposte ai missionari, tanto che le infrange tutte, tranne quella di telefonare a casa. Winnipeg è una città universitaria dove si organizzano feste, girano alcol e fumo in quantità. E Mark non riesce proprio a resistere, infatti esce di nascosto per andare nei bar a chiacchierare con le ragazze. Adora la sensazione di libertà che sperimenta con le sue fughe perché a casa è sempre sotto controllo. La sua famiglia lo monitora 24 ore su 24 ma questa pressione svanisce durante la missione perché è circondato da persone che non lo conoscono. Non deve dimostrare di essere perfetto e di far parte di una famiglia perfetta, non deve ottenere il massimo dei voti a scuola o dei riconoscimenti gloriosi negli sport. Mentre frequenta una festa dopo l'altra Mark va a letto con diverse ragazze intenzionate ad abbracciare la fede mormone, nonostante sia ancora fidanzato con Lori. Lori è all'oscuro della vita che Mark sta conducendo in missione e lui si approfitta della sua posizione per esortare le ragazze a stare con lui. Ma questo comportamento non si protrae a lungo perché Mark viene beccato e rispedito a casa. I ragazzi cacciati durante la missione sono motivo di grande vergogna e imbarazzo per le loro famiglie che hanno una reputazione da difendere. Ma Mark da bugiardo nato qual è riesce a cavarsela. Convince i suoi parenti che è stato rimandato a casa per via di un errore, un malinteso. Mentre la famiglia gli crede Lori invece dubita di Mark, sospetta che lui l'abbia tradita ma alla fine decide di continuare la relazione con lui. Entrambi a questo punto si iscrivono all'università dello Utah e poco prima della laurea di Lori si sposano celebrando una bellissima cerimonia in un tempio mormone. Lori eccella l'università proprio come a scuola, infatti si laurea con l'ode in economia e subito dopo trova un ottimo lavoro in banca. Mark invece continua a studiare nell'ottica di frequentare la facoltà di medicina, infatti sogna di diventare un dottore. Mentre prosegue gli studi al college ottiene un lavoro part time in un ospedale locale. Le cose sembrano andare bene, Lori sa che Mark non è perfetto, che è inclina a raccontare qualche bugia, ma lei reputa che sia qualcosa di grave. Insomma Lori ama Mark, si divertono tantissimo insieme e in loro sembra un matrimonio felice. Passa qualche anno, è il 2004, Lori e Mark sono sposati da circa 5 anni e hanno quasi 30 anni. Lori lavora sempre in banca, mentre Mark prosegue gli studi con lentezza, sta ancora frequentando il college con la prospettiva di iscriversi alla facoltà di medicina. Quanto meno sta finalmente per laurearsi e dopo aver conseguito il titolo al college informa la sua famiglia, Lori e gli amici, di una grande novità. È stato accettato nella facoltà di medicina nel North Carolina, studierà oncologia. Lori ovviamente è entusiasta per lui, Mark sta finalmente per esaudire il suo sogno, ma allo stesso tempo si sente triste. Per seguirlo Lori deve lasciare il suo lavoro, allontanarsi dalla famiglia e dagli amici, ma è disposta a farlo per amore di Mark. La coppia programma di dare una festa per salutare i propri cari e più o meno nello stesso periodo Lori scopre di essere incinta. Quindi ci sono molte novità in vista per entrambi, stanno per diventare genitori e si stanno trasferendo in uno stato dall'altra parte dell'America. Lori dunque si prepara a cercare un nuovo lavoro e ad affrontare la sua nuova vita. Ma nonostante i cambiamenti all'orizzonte siano radicali, pare che la coppia riesca a gestirli. Pare, infatti, perché il 16 luglio Lori, mentre organizza il trasloco, chiama l'Università del North Carolina per informarsi sugli aiuti finanziari disponibili, ma dall'altra parte le rispondono che non risulta nessun Mark Hacking iscritto alla facoltà di medicina. E non solo, nessun Mark Hacking ha mai nemmeno presentato la domanda per accedervi. Lori rimane scioccata dalla notizia e tutte le sue convinzioni crollano come pioggia in una giornata uggiosa. Si chiede cosa diavolo stia succedendo, insomma incinta di qualche settimana. Si sta trasferendo dall'altra parte del paese, ha già lasciato il suo lavoro e scopre che suo marito le ha raccontato un'enorme bugia. Perché? Lori decide di affrontarlo, ma Mark menti ancora, sostenendo che deve esserci un errore tecnico nel sistema informatico. Mark conferma di aver fatto domanda per entrare in quell'università, domanda che era stata accettata. Lori sa che suo marito è inclinamentiere, quindi questa volta non gli crede. Decide di indagare e alla fine scopre non solo che Mark non ha mai fatto domanda per iscriversi alla facoltà del North Carolina, ma pure che aveva abbandonato il college più di due anni prima. In verità, non si è mai laureato. Ogni giorno negli ultimi due anni più Mark ha finto di andare al campus. Usciva di casa con i libri in spalla, aspettava che arrivasse l'ora in cui Lori si recava al lavoro, così rincasava di nascosto ed era libero di giocare ai videogiochi fino a sera. Mark ha finto di essere uno studente affacendato, di essere stressato dallo studio, e da anni Lori è l'unica che lavora, che porta a casa delle entrate, anche per finanziare la finta vita studentesca di Mark. Mark ha fatto di tutto per alimentare questa bugia. Quasi ogni sera, quando Lori tornava a casa dal lavoro, si sedeva alla scrivania e fingeva di studiare. Alcune volte incontrava Lori al campus per pranzo. Spesso parlava dei suoi studi anche alla mamma di Lori e le chiedeva di interrogarlo. Ma la verità è una soltanto. Mark ha abbandonato gli studi perché era troppo pigro per concluderli. Non ne aveva più voglia. Questo non giustifica le menzogne, ma Mark si sentiva messo sotto pressione dalla sua famiglia, che voleva instradarlo verso il successo, e lui sperava di poter ricalcare le orme del padre diventando un medico. Nel giorno della sua finta laurea, Mark ha vomitato più volte davanti ai suoi cari, proprio perché aveva assunto qualcosa che lo facesse stare male e gli impedisse di partecipare alla cerimonia pubblica. Qualche giorno dopo, la famiglia, per gratificarlo, ha organizzato una piccola festa a casa, occasione in cui Mark ha addirittura indossato il tocco e il vestito per la laurea, col fine di farsi scattare delle foto. Se Mark si fosse applicato nello studio la metà di quanto si è impegnato a mentire, si sarebbe laureato con il massimo dei voti. Quanto alla bugia sulla facoltà di medicina del North Carolina, questa è davvero estrema e, come si è visto, ad altissimo rischio di essere smascherata. Ma perché inventare una menzogna che avrebbe condotto lui e sua moglie così lontano, stravolgendo le vite di entrambi? Per Mark sarebbe stato più semplice dire che avrebbe frequentato la facoltà di medicina all'Università dello Utah. Invece a mentito riguardo a tutti i colloqui che sosteneva di aver fatto, non solo nel North Carolina, ma presso numerose facoltà di medicina sparse nel paese. Wisconsin, Washington, New York e Vermont. Secondo voi, chi ha pagato tutti questi viaggi? Lori, ovviamente. Lori aveva pagato i suoi biglietti aerei e gli hotel. Lo supportava finanzieramente per permettergli di avverare il suo sogno. Ma Mark, durante quei viaggi, cosa diavolo faceva in realtà? Lori, per necessità economiche, continuava a inserirsi in più turni di lavoro e a fare sacrifici, ma a tutti gli amici e i parenti diceva che non le pesava perché un giorno i suoi sforzi sarebbero indubbiamente stati ripagati. Quando Mark le aveva detto di aver ottenuto un posto alla facoltà di medicina nel North Carolina, Lori era al settimo cielo. Era orgogliosa di suo marito, felice per lui, disposta a trasferirsi così lontano, a lasciare il suo lavoro, i suoi amici e la sua famiglia per seguire Mark. Invece l'obiettivo di Mark non mi è chiaro e probabilmente non lo era neanche per lui. Insomma, cosa avrebbe fatto nel North Carolina? A quale scopo avrebbe finto di frequentare l'università? Forse il suo obiettivo era quello di proporsi come un dottore, pur senza aver conseguito la laurea? Purtroppo si sono verificati dei casi simili, ma ho la sensazione che Mark non fosse così ambizioso. Lui cercava di sorreggere la sua bugia giorno per giorno, di tenerla in piedi il più lungo possibile, senza pensare al domani. Ma questa bugia, come detto, è caduta in mille pezzi quando Lori ha telefonato all'università il 16 luglio del 2004, proprio nel giorno in cui era prevista la festa per salutare la coppia prima della partenza. Lori si trattiene dal mandare tutto a monte, ma dopo la festa lei e Mark hanno una forte discussione. Lori è comprensibilmente furiosa perché Mark stava sconvolgendo le loro vite per assecondare un'assurda bugia. Qualche giorno dopo, una volta fatte le sue indagini, Lori scrive una lettera a Mark, che ora vi leggo immediatamente. Voglio invecchiare con te, ma non posso farlo in queste condizioni. Non riesco a immaginare la mia vita con te se le cose non cambiano. Odio tornare a casa dal lavoro perché mi fa male stare nel nostro appartamento. Lori ha anche detto a Mark che, se non fosse cambiato davvero, avrebbe chiesto il divorzio. Opinione personale, credo che Mark sia stato estremamente fortunato, perché Lori, dopo tutto quello che lui le ha fatto, gli ha pure concesso un ultimatum. Dalla lettera emerge che Lori è disposta ad affrontare questa situazione, a risolvere questo problema, vuole solo che Mark ammetta ciò che ha fatto e che cambi. Quello che chiede Lori, a mio avviso, è più che ragionevole. Dopo avergli consegnato la lettera il 18 luglio, lei va a letto e spera che Mark rifletta con calma sulla sua richiesta. Ma lui si infuria da morire per queste parole. Come osa Lori metterlo con le spalle al muro? Lo sta interrogando per caso? Pensa di potergli dire come comportarsi? Lui è l'uomo di casa, suo marito. Come può avere un'opinione così bassa di lui? Mark è convinto di detenere l'autorità soltanto perché è un maschio e crede di meritare obbedienza. Ma non è finita qui. Mark è furibondo perché Lori vuole che lui confessi la verità e si assuma le sue responsabilità. Ma per Mark è impossibile smantellare il suo castello di bugie ormai in macerie. Mark non può permettere che suo padre, un uomo stimato dalla comunità, un bravo dottore, scopra la verità sul suo conto. Non sopporterebbe mai e poi mai una tale umiliazione. La sua famiglia perfetta di successo non può sapere dei suoi fallimenti e delle sue bugie. Mark sarebbe diventato lo zimbello della comunità e non è disposto a provare questo imbarazzo. Decide così che non può permettere alle sue bugie di emergere. Non può lasciare che sua moglie Lori smaschere il suo mondo segreto, un mondo arido e povero se spogliato dalle menzogne e dalle illusioni. La mattina successiva, il 19 luglio 2004, alle 10.07, Mark telefona alla polizia per denunciare la scomparsa di sua moglie Lori. Avete capito bene, Lori sparisce esattamente il giorno dopo il litigio con Mark e la successiva consegna della lettera. È scomparsa l'unica persona che sapeva della vita fasulla di Mark, mentre tutti gli altri sono convinti che lui sia un uomo di successo in procinto di raggiungere i suoi obiettivi e che sia un marito amorevole e affettuoso. Nessuno sospetterebbe mai di lui. Mark racconta alla polizia che Lori quella mattina è andata al Memory Grove Park per fare jogging, attività che pratica spesso, ma non è più tornata. Mark ha telefonato anche alla mamma di Lori, ai colleghi di lavoro e a chiunque potrebbe sapere dove si trova, ma nessuno ne ha la più pallida idea. La sua macchina viene trovata presto in un parcheggio vicino al parco in cui sarebbe andata per fare jogging e a questa notizia i cari di Lori cominciano seriamente a preoccuparsi. Lori non avrebbe mai e poi mai abbandonato la sua auto senza un valido motivo, andava al lavoro sempre puntuale e, se avesse fatto tardi, avrebbe di certo telefonato per avvisare, anche se quelli erano i suoi ultimi giorni in banca. Siccome questa sparizione sembra sospetta, la polizia intensifica gli sforzi necessari per trovare Lori Hacking e le indagini iniziano ufficialmente. Gli investigatori, come primo passo, chiedono a Mark se possono dare un'occhiata in casa e lui li invita a entrare. Di certo non vuole destare sospetti. Appena gli investigatori entrano in casa, però, si rendono conto di alcune cose che proprio non quadrano. Innanzitutto notano che la borsa di Lori è rimasta sul bancone della cucina. È strano, perché secondo loro la maggior parte delle donne è solita portare una borsa con sé quando esce. Poi, a fianco della borsa, i detective notano la fede nuziale di Lori e pensano che sia un'altra stranezza. Perché Lori si è tolta la fede per andare a fare jogging? Ora, non per fare la puntigliosa, ma queste due prime osservazioni mi sembrano assai approssimative. Ogni donna è un essere umano, con le proprie abitudini, e magari qualcuna può trovare comodo uscire senza borsa al seguito o dover togliere la fede per svariati motivi. In ogni caso, i detective notano la borsa, la fede e persino le chiavi dell'auto di Lori in casa. Questo, più che strano, è assurdo. Se le chiavi sono lì, come ha fatto Lori a uscire in macchina e parcheggiare vicino al parco? Tra l'altro, perquisendo la macchina di Lori, la polizia scopre che il sedile del conducente è spinto troppo indietro per chi a occuparlo fosse una donna della statura di Lori. Dunque, l'ultima persona che ha guidato quell'auto è molto alta. Magari alta quanto Mark. Poi i detective trovano anche la lettera che Lori aveva scritto al marito e scoprono che lei gli stava dando un avvertimento. Avrebbe chiesto il divorzio se lui non fosse cambiato. I detective a questo punto intuiscono che la lettera sia stata causa di risentimento, dunque potrebbe configurare un movente. Ora sì che sospettano seriamente di Mark e iniziano a perlustrare l'appartamento in modo più approfondito e le stranezze sembrano moltiplicarsi sotto i loro occhi. Prima di tutto, l'ambiente è fin troppo pulito, specialmente il bagno. Poi individuano un materasso nuovo di zecca con sopra delle lenzuola altrettanto nuove. Le pieghe delle lenzuola infatti rivelano che sono state appena tirate fuori dalla confezione e sistemate sul letto. Ispezionando l'auto di Mark, gli agenti trovano uno scontrino che prova che lui effettivamente ha comprato il materasso in un negozio vicino alle 10.23 di quel mattino. Dunque Mark ha denunciato la scomparsa di sua moglie alla poliziale 10.07 e 16 minuti dopo è andato ad acquistare un nuovo materasso. Un comportamento senza dubbio singolare per un uomo preoccupato della scomparsa della moglie. Neanche la casalinga più affaccendata avrebbe avuto l'impulso di andare a comprare materasso e lenzuola e di sistemarli subito sul letto in una situazione del genere. È proprio questo comportamento che suggerisce ai detective che Mark sia colpevole. Devono solo trovare delle prove schiaccianti per accusarlo del crimine. Presto sul comodino gli investigatori individuano un coltello da caccia coperto di sangue fresco. Mark ridacchiando dice agli agenti che è andato a caccia di recente ma ovviamente nessuno gli crede. Gli investigatori sono ormai sicuri Lori non è una persona scomparsa ma è morta probabilmente per mano di suo marito Mark. Nel frattempo mentre le indagini proseguono la comunità locale e i media vengono a sapere del caso Mark è sotto i riflettori e conoscendo quanto è egocentrico potete bene immaginare che stia sguazzando in questo mare di attenzioni. Va addirittura in televisione per fare un appello ma dopo aver pronunciato qualche parola scoppia a piangere. Mentre il Mark va in giro a mostrarsi come un marito affranto i detective continuano a indagare e si stanno avvicinando al colpevole sempre di più. Vengono individuate delle tracce del sangue di Lori in camera da letto e si ottiene conferma che anche il sangue presente sul coltello da caccia appartiene a lei. Altre tracce matiche si rinvengono nell'auto di Mark. Infine la polizia trova il vecchio materasso che Mark aveva buttato in un cassonetto a qualche isolato di distanza da casa sua. Il materasso dunque come ovvio che sia viene recuperato e analizzato. Si nota che una parte della stoffa corrispondente al punto in cui Lori dormiva è stata tagliata e rimossa. Le prove contro Mark si stanno accumulando e lui si sente agitato ma decide di giocarsi un ultimo asso nella manica. Se lo accuseranno dell'omicidio della moglie per evitare di finire in prigione fingerà di essere pazzo. Così nelle prime ore del mattivo successivo alla scomparsa di Lori la polizia viene chiamata perché all'esterno di un motel c'è un uomo che non è in sé che corre nudo e Mark che reputa saggio simulare così un disturbo mentale anche se fino al giorno prima sembrava stesse bene. Quando la polizia arriva sul posto nota che l'uomo nel suo attacco di follia ha però avuto l'accortezza ad indossare i sandali si è preoccupato di non ferirsi i piedi quindi. La polizia affronteggia spesso situazioni del genere quindi riesce a capire che Mark sta allestendo una messa in scena. Nonostante questo per il momento decide di non arrestarlo ma di farlo ricoverare in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo gli investigatori continuano a tenerlo d'occhio e a raccogliere prove. Ancora nessuno ha capito che Mark viveva in una realtà costruita sulle bugie ma poi i detective lo scoprono. L'uomo non ha mai frequentato la facoltà di medicina non ha mai neanche presentato una candidatura e aveva abbandonato il college da più di due anni senza mai conseguire la laurea. La notizia viene resa pubblica e tutti si rivoltano contro Mark. Amici e parenti iniziano a sospettare proprio di lui perché non si tratta di voci o pettegolezzi ma sussistono prove evidenti che costringono a fare i conti con la realtà. Due dei fratelli di Mark gli fanno visita all'ospedale psichiatrico perché hanno bisogno di sapere la verità su ciò che è accaduto. Non mi aspettavo il risvolto che sto per raccontarvi proprio perché Mark è un bugiardo patologico che mente persino su ciò che ha mangiato a pranzo ma a questo punto dice la verità. Ammette tutto davanti ai suoi fratelli. la laurea mai conseguita la domanda all'università del North Carolina mai inviata e alla fine confessa anche l'omicidio di sua moglie Lori. Mark dice ai suoi fratelli che la sera del 18 luglio 2004 dopo aver letto la lettera di Lori si è infuriato così tanto che ha afferrato il fucile e è entrato in camera da letto mentre sua moglie sembrava addormentata ha puntato l'arma contro la parte posteriore della sua testa e ha premuto il grilletto. Mark è preciso di aver ucciso Lori per preservare l'apparenza della sua falsa vita per proteggere il suo ego. Se ricordate tra l'altro cosa ancora più tremenda Lori era anche in dolce attesa di qualche settimana dunque insieme a lei Mark ha eliminato anche il proprio figlio. Credo che quando si menti in modo eclatante come ha fatto Mark prima o poi le bugie saliranno a galla non importa quanto tempo occorra ma succederà. Io continuo a chiedermi quale fosse il suo piano come potesse pensare di riuscire a farla franca sia per quanto riguarda le bugie relative al suo percorso di studi sia per quanto concerne l'omicidio della povera Lori. Tra l'altro ha lasciato dietro di sé una scia di prove contro di lui di tasselli che hanno permesso alla polizia di ricostruire tutto il puzzle. La verità su Mark finalmente è di dominio pubblico perché i suoi fratelli denunciano immediatamente il tutto alla polizia. Mark Hacking viene finalmente arrestato ma ai detective rimane ancora un compito da assolvere trovare il corpo di Lori. Durante la confessione Mark sostiene di aver scaricato il cadavere della moglie in un cassonetto non troppo lontano da casa sua. Sperava che la spazzatura sarebbe stata ritirata proprio la mattina in cui ha denunciato la scomparsa di Lori. Purtroppo è andata proprio così. Il corpo di Lori è già finito in una discarica. La polizia esamina una porzione della discarica in cui i rifiuti provenienti da quel cassonetto sarebbero dovuti finire cioè l'area destinata alla spazzatura recente. Ma non sarà una ricerca facile perché è riempita da 4.000 tonnellate di spazzatura. Ecco la crudele e misera fine che Mark ha destinato alla donna che lo amava fin da quando erano adolescenti che faceva di tutto per renderlo felice e che aveva in grembo suo figlio. Gli investigatori non hanno intenzione di arrendersi sono determinati a trovare il corpo di Lori per restituirlo alla sua famiglia. Arriviamo al 1 ottobre del 2004 a due mesi dalla confessione di Mark il corpo di Lori viene ritrovato o meglio i suoi resti infatti sono riusciti ad identificarla rinvenendo una mascella quindi tramite l'impronta dentale. Il 15 aprile del 2005 Mark presenta un patteggiamento all'accusa e viene condannato a 6 anni di prigione. So che ciò vi sconvolgerà ma al tempo 5 anni erano la pena massima perché commetteva il primo omicidio e a Mark ne è stato aggiunto uno in più per aver utilizzato un'arma da fuoco. Fortunatamente la legge è variata proprio a seguito di questo caso. Ora la pena massima definitiva nell'Oiuta corrisponde a 15 anni di detenzione che a mio avviso sono comunque pochi se parliamo di un omicida. Anche se Mark era stato condannato a 6 anni di reclusione la commissione per la libertà vigilata è intervenuta e ha concluso che lui dovrà scontare un minimo di 30 anni in carcere non avrà diritto alla libertà condizionale fino al 2035. Mark quindi ancora oggi è dietro le sbarre ma chissà che con le sue bugie non costruisca un'altra realtà di fantasia. In ogni caso dopo l'orribile crimine di cui si è macchiato non potrà riacquistare la stima dei suoi familiari e della sua comunità. Detto questo e finito di parlare in questo video io onestamente rimango sempre abbastanza basita quando un uomo arriva a uccidere la propria compagna la propria moglie per delle bugie per delle stupide bugie però capisco anche che l'essere bugiardo patologico è un disturbo le persone bugiarde patologiche lo fanno perché ne sentono il bisogno questo però ovviamente non giustifica ciò che ha fatto Mark io sono curiosa di sapere cosa ne pensate di questo caso fatemi sapere quindi nei commenti qual è la vostra opinione come al solito come vi dico sempre ci becchiamo nei commenti nel frattempo vi mando un bacione ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene e soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facete nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti